La prima amministrazione Tempesta iniziò i lavori di costruzione di una casa dello studente accoppito. Adesso quei lavori sono fermi da anni e a fianco un privato costruisce una casa dello studente privata. Cosa ha in mente di fare l'amministrazione per completare la casa pubblica? Io dico la verità, quella casa che è stata realizzata probabilmente verrà trasformata in una scuola. Io spiego perché. Costruire una casa dello studente oggi, pestare nei costi, vuol dire realizzare una struttura che funzioni come residence, casa dello studente, quello che si vuole. Anzitutto è un accordo con l'Azio. Anzitutto vuol dire avere un accordo ben chiaro con l'Azio, ma poi vuol dire realizzare una struttura che stia nei costi. Ripeto, si tratti di residence, di una casa dello studente di tipo classica, campus e quello che si vuole. La massa critica di posti letto necessari è molto più alta, si ragiona sull'ordine dei centinaia di posti letto, quindi strutture più forti. Su questo si stanno muovendo i privati. Io le posso dire una cosa, che il lavoro che sto facendo in questi giorni riguarda l'area dell'ex ospedale San Salvatore. Sempre la Giunta Tempesta preparò un accordo di programma per quell'area, che è finto, firmato da tutta una serie di enti che dovevano intervenire, chi comprava 8.000 metri, chi 2.000, chi 1.500, chi 6.000 e così via, dopodiché era finta questa cosa. Per cui ora in quell'area io mi ritrovo una facoltà universitaria con due facoltà universitarie, sulle quali che avevano 6.000 studenti senza parcheggio, e il resto del San Salvatore senza nulla. Lì si sta ragionando per realizzare una casa dello studente, perché io ritengo che a questo punto avremmo un pollo universitario al centro della città e un pollo scientifico legato all'accoppito, dove ci saranno questi interventi, riqualificando anche tutta la residenzialità diffusa che c'è nella nostra città. Alla luce di questo, tra l'altro, si determinerà anche il passaggio della metropolitana di superficie, che proprio nell'ottica di questo intervento acquisirà un senso di collegare almeno i due poli universitari, anche perché i ragazzi sono quelli che più prendono il mezzo pubblico. Il presidente della DSU sostiene che hanno più volte come azienda diritto allo studio chiesto al comune di trovare una soluzione per la casa dello studente pubblica di Coppito, anche proponendo di trasferire lì gli uffici della DSU e portare la casa dello studente agli attuali uffici di via 20 settembre. Sì, questo si può anche fare, basta che loro ce lo chiedono. Io ho un problema ancora più serio lì, nel senso che attualmente ho una scuola dentro l'ospedale San Salvatore che sta impedendo al reparto di oncologia di lavorare. Quindi io ritengo che le soluzioni vanno trovate in modo diverso. Questa cosa dell'AZU me la sta, francamente, la sto apprendendo in questo momento da lei, questa volontà dell'AZU. Per me va benissimo, ci sono altre possibilità di rastrimento. Io piuttosto quello che chiedo all'AZU e all'università è di aiutarmi in questo momento, nel reperire i finanziamenti e farmi sapere qual è l'ottica. Esempio, esiste una legge che permette un parte di finanziamento. Mi sto muovendo per proporre al mondo imprenditoriale aquilano ed italiano di realizzare il resto dell'intervento. La città è pronta a discutere sul San Salvatore, l'ex San Salvatore, dopodiché io ritengo che ci sarebbe la possibilità di interventi anche da parte dell'università, che ha 8 milioni di euro per completare il suo intervento previsto in quell'area, o da parte dell'AZU. C'è la volontà di collaborazione. Io quello che chiedo, francamente, è quello di cominciare a ragionare con molto coraggio, pensando a una cosa, che la competitività oggi degli atenei e delle università non è legata solo alla qualità della didattica, dei laboratori e così via, ma molto a quello che si fa. Tant'è vero che io posso annunciare che aumenteremo il 40% il servizio di trasporto degli studenti con l'AMA ed è un grosso impegno che assumiamo e che abbiamo chiuso in questi giorni un accordo che perfezioneremo nelle prossime ore con i tre gruppi di medici di base che si sono raccolti nelle associazioni, per cui avremo un accordo per portare un'assistenza gratuita agli studenti universitari fuori sedi che lei sa che hanno una difficoltà, che o si cancellano dal medico che hanno nella loro residenza, però si dovrebbero scoperti, invece stiamo perfezionando questo. Quindi la città, il famoso welfare degli studenti, del programma di mandato, stiamo cercando di attuarla. È chiaro che forse è necessario che il comune, la provincia, tutti gli enti, lavorino più strettamente con l'università e con il diritto allo studio che è regionale.